Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni, situazione sempre molto delicata anche questo lunedì, soprattutto nell'Italia centrale e al nord-est, dove ancora insisteranno acquazioni temporali, la pressione dell'atmosfera che resta infatti bassa sul nostro paese. Controlliamo adesso la nuvolosità. Atea sull'Italia, come vedete, nubie abbastanza diffuse, compatte interessano l'Italia centrale e le regioni di nord-est e ovviamente queste sono le zone in cui prevediamo anche delle precipitazioni. Controlliamo quindi l'intensità di queste piogge perché si tratterà anche di temporali acquazioni di forte intensità. Partono dalla Sardegna e poi raggiungono l'Italia centrale e nel pomeriggio anche il Triveneto, qua però in forma un po' più isolata. Quindi in definitiva sarà, come diciamo, l'Italia centrale la zona che vedrà le piogge più diffuse e intense, ripeto, anche sotto forma di temporale, quindi si rischia la grandine, si rischiano raffiche di venti improvvise. Qualche acquazzone anche al nord-est in forma più isolata sulle regioni di nord-ovest, invece il sud resta ancora fuori dai giochi, però vi segnala un pochino più di variabilità sull'Alta Campania, sulla Puglia-Garganica e sulla Sicilia-Tirrenica. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi vista la situazione, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.